La semplicità di un gesto come quello di aprire il rubinetto ed avere a disposizione direttamente nelle proprie case una risorsa eccellente come l'acqua sintetizza la complessità di un lavoro quotidiano come quello svolto dalle aziende Marche Multiservizi ed Aset, che oggi in occasione della giornata mondiale dell'acqua sono ancora una volta in prima linea per promuovere una vera cultura della risorsa idrica. Da qui, vista l'impossibilità di aprire gli impianti alle visite guidate per via del Covid, la presentazione attraverso un video del loro viaggio virtuale dell'acqua. Il messaggio che si vuol dare è della massima attenzione sia sui suoi consumi. Dobbiamo avere la forza, il coraggio di guardare avanti creando le migliori condizioni di approvigionamento per dare continuità a un servizio che è fondamentale per lo sviluppo sia produttivo, turistico e di vita di un territorio. Dobbiamo avere la capacità di guardare avanti creando infrastrutture che ci diano la tranquillità per il futuro e per le nuove generazioni. Le scelte che guardano verso la creazione di un invaso che ci possa consentire di trattenere l'acqua quando piove, avere dell'acqua da distribuire quando c'è la carenza di stiva e anche, voglio dire, produrre energia elettrica che è una fonte rinnovabile e quindi ecologica. Per essere attrattivi sia da un punto di vista turistico, ambientale, ricettivo, abbiamo necessità di avere autonomia e la capacità di mettere a sistema alcune pianificazioni di carattere provinciale diventa veramente fondamentale, soprattutto in un contesto come il nostro, dicevo che ha captazioni di carattere superficiale. Ormai da diversi anni la capacità di mettere a sistema una serie di attività, quindi la pressurizzazione di alcune zone del nostro territorio, iniziare a fare delle campagne di sensibilizzazione nei confronti del cittadino sull'utilizzo e sulla riduzione dei consumi, dall'utilizzo dei riduttori di flusso, alle cassettine nei servizi igienici, la casetta dell'acqua proprio per avere comunque un impatto il meno possibile da un punto di vista anche della gestione delle acque imbottigliate, quindi tutte azioni che vanno di fatti a portare dei benefici. Il nostro ruolo è quello di festeggiare queste giornate tutti i giorni dell'anno perché tutti i giorni siamo preparati appunto e operiamo per cercare di garantire la migliore qualità, la quantità e le garanzie che debbono avere tutti i sistemi di approvvigionamento, smaltimento delle depurazioni e quant'altro, quindi questo è il nostro obiettivo.